Ben ritrovata una nuova puntata di In Bici con Filippa. Oggi torniamo a fare una puntata cittadina e per l'occasione siamo a Monza, a pochi chilometri da Milano. Quindi oggi farò un percorso ciclistico facile, ma adatto a tutte le gambe, veramente perfetta per le gite fuori porta. In Bici con Filippa, solo su Bike Channel. In Bici con Filippa